Buongiorno, noi come associazione di donne immigrate in Veneto abbiamo questa associazione di 3-14 anni. Io sono la presidente e stiamo facendo tantissimo corso, i corsi finanziati dalla regione Veneto tra associazioni volontariate. Questi corsi li abbiamo fatto e è andato bene e questo aiuta anche le donne a trovare lavoro dopo le corse. Ci sono tutti insieme perché per aiutare le donne quando sono in difficoltà, nella gravidanza, nel manco di lavoro, questo aiuta. Aiutano anche le donne quando hanno bisogno di inserirsi e per la lingua abbiamo fatto tantissima formazione di questo che è andato bene, ha dato tantissimo anche aiuto alle donne immigrate. Quasi quasi tutte le nazionalità che sono qui in Veneto perché se sono qui li senti e vedi che questi stanno andando avanti e vengono. Sono tantissime, diversi assoziazioni.